Sì, è stato un primo tempo non all'altezza, eravamo qui a Foggia per cercare di continuare la striscia positiva che abbiamo fatto, però loro hanno giocato meglio, hanno avuto più supermerzia, hanno avuto possesso palla, poi hanno trovato due gol e si è messa tutto in salita, anche dopo l'espulsione. Nel secondo tempo abbiamo provato a reagire, però era difficile contro un buon Foggia. Dopo il primo gol vi avevate un po' ripreso a giocare, poi quel secondo gol negli ultimi minuti del primo tempo vi ha tagliato un po' le gambe? Sì, dopo l'1-0 abbiamo avuto una piccola reazione, però il secondo gol ci ha tagliato le gambe perché poi era l'ultimo minuto del primo tempo, quindi andare all'intervallo con il doppio svantaggio era difficile per tutti recuperare. Ci abbiamo provato, inizialmente nel secondo tempo qualcosa abbiamo fatto, poi con l'espulsione la gara si è conclusa. Si è passati da un calcio di rigore possibile per voi, poi c'è la ripartenza, il Foggia ha avuto prima il rigore, l'espulsione e poi il terzo gol, è cambiata lì forse la partita? Sì, è cambiata lì, a me parlando con Gaetano, con Monachello, nello spedoglio mi ha detto che ci poteva essere il rigore, io da lontano non l'ho visto. Per noi, dopo ci sto rigore per loro, mai come ho detto che è stato netto, forse c'era la posizione di fuorigioco di Deli, però ormai è andata, dobbiamo inserire già a Parma perché fra due giorni si rigioca subito. Dopo la striscia positiva vi fermate a Foggia, si ritorna a giocare già in questi giorni, cosa cambia per l'Ascoli, per questo continuo di campionato? Cambia che invece di otto partite ce ne sono sette, rimangono 21 punti, calcoli alla mano, dobbiamo cercare di fare 12 punti per arrivare sui 48-49 che penso c'è la salvezza matematica. Già con il Parma dobbiamo cercare di ottenere punti importanti per il morale, ma soprattutto per la classifica, per muoverla perché abbiamo bisogno di punti. Come hai visto il Foggia in campo? Ho visto un buon Foggia, si sapeva che ha supremazia territoriale, ha un grande possesso di palla, un grande gioco, un grande allenatore perché l'ho sempre stimato come miste, quindi complimenti a loro, hanno ottenuto la salvezza penso, quindi complimenti a loro.